Barilari, l'espulsione di Nappello mi è sembrata strana. Un po' eccessiva, visto che era già munito, l'arbitro poteva pensarci un attimo prima di lasciarci in gel tv uomini e soprattutto nella gara di ritorno ci mancherà una pedina per noi fondamentale. Però c'hai Basso che sta facendo la differenza. Basso di un altro pianeta e ha fatto anche oggi una parata da portiere, da professionista e ci ha tenuto in partita e andiamo là per giocarcela. Grazie.